Grazie di cuore, buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità qua, grazie al signor sindaco, al signor prefetto, a tutte le autorità istituzionali, grazie Giulio per l'accoglienza di Confindustria Verona e per l'ottimo lavoro che insieme al Ministro Calenda, Carlo, state facendo nella cabina di regia. Io credo che di Industria 4.0 non ci sia da dire altro, adesso c'è da lavorare, noi dal nostro osservatorio, e anzi non dall'osservatorio, dal nostro tavolo di lavoro che è quello della legge di stabilità, delle procedure interne, oggi chiuderemo la parte legata al DEF, ma entro il 20 di ottobre queste misure dovranno essere misure formalmente ratificate e quindi lavoriamo in questa direzione, voi naturalmente nei luoghi dove si fanno le scelte, nei luoghi dove si produce il PIL, anzi considerando il contributo che dà Verona e il Veneto al PIL italiano ho l'impressione che prima mi sbrigo, prima rischio blocchi della crescita ulteriori, per cui considerando che in questa sala vedo delle donne e degli uomini che il PIL lo fanno, altro che discorsi. Cerco di farla breve, mi giro un attimo indietro, una cosa che non si dovrebbe fare, mi giro indietro, fermo le lancette e guardo dove eravamo tre anni fa. Tre anni fa il Paese stava in una situazione di sostanziale stallo, il Parlamento non riusciva ad eleggere il Presidente della Repubblica. Le riforme erano bloccate, qualcuno magari è contento per questo, ma le riforme erano bloccate. I parlamentari facevano un sciopero della fame perché l'ordine del giorno del Parlamento era sostanzialmente sempre il solito. Di mercato del lavoro non si poteva parlare, il primo che avesse utilizzato l'espressione articolo 18 sarebbe stato immediatamente bloccato da una selva di comunicati stampa negativi. Il PIL era a meno 2,3 nel 2012, a meno 1,9 nel 2013. Non che adesso siamo a risultati straordinari, ma almeno siamo tornati in campo positivo. Le clausole di salvaguardia continuavano a scattare, l'ultima clausola di salvaguardia in Italia è scattata il primo ottobre del 2013, l'aumento dell'IVA. Questo era il disegno del Paese con questo Parlamento tre anni fa. Non vi sto parlando di 30 anni fa, vi sto parlando di tre anni fa. Quel Parlamento, che è lo stesso di oggi, ha finalmente cambiato verso. Ancora non ha fatto tutto quello che noi vorremmo che potesse fare, ma sicuramente si è rimessa in moto una speranza. Nel bene e nel male qualcosa ha iniziato a girare. E quello che ha iniziato a girare non è ancora sufficiente a riportare l'Italia là dove noi la vogliamo mettere, al primo posto. I francesi vogliono il nostro posto. Peccato per loro, caro Carlo, perché noi vogliamo quello dei tedeschi. Questa è la fregatura. Noi vogliamo far sì, ed è difficilissimo perché richiederà anni, forse decenni, per la qualità che la Germania ha saputo mettere. Ma noi vogliamo puntare al primo posto perché pensiamo che l'Italia abbia le caratteristiche per farlo. Amici, non è training autogeno questo. Non è terapia di gruppo. È la constatazione che ci sono molti problemi e molte difficoltà, ma anche che ci sono delle eccellenze straordinarie. Che nel tempo della paralisi e dello stallo, nel tempo della palude, grazie al lavoro delle imprese, hanno saputo portare comunque l'Italia, con la valigetta, nel mondo forte a vendere, a competere, ad essere credibile. E voi lo sapete bene perché siete una parte di quell'Italia lì. Ma proprio per questo, se rimuoviamo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita in questi anni, lavoro duro, difficile, faticoso, quotidiano, non fa notizia una foresta che cresce. Il primo albero che casca, il primo cespuglio che casca fa notizia. Ma il lavoro quotidiano non fa mai notizia. Questo tipo di lavoro qui è il lavoro che noi stiamo facendo e che vogliamo continuare a fare. Tutti insieme, nessuno si sente escluso. Ognuno la pensi come vuole sulla politica. Ognuno abbia il proprio giudizio sulla simpatia dei ministri, del premio e degli altri, chi se ne frega. Il problema non è la vostra opinione politica. Il problema è dove portiamo l'Italia tutti insieme perché l'Italia è di tutti. Che cosa abbiamo fatto in questi tre anni? Abbiamo iniziato a fare quelle riforme, io dico quelle banali, quelle semplici. Perché mi vergogno a dire che il Jobs Act è stata una grande riforma. Non perché non lo sia stata. Non perché non abbia prodotto risultati. Perché quando tu vedi 585 mila posti di lavoro in più, vedi un risultato concreto che non è merito del governo, ma che è stato aiutato dal Jobs Act oggettivamente. Però è l'ABC. La Germania il suo Jobs Act l'aveva fatto 15 anni prima. Il Regno Unito l'aveva fatto 25 anni prima, anzi lì l'avevano un po' esagerato, ma diciamo hanno avuto la Thatcher e poi Blair ha potuto fare Blair perché c'era stata la Thatcher. Da noi è mancata questa parte precedente, mettiamola così, che è anche un bene naturalmente per tanti motivi. Altri paesi nel mondo avevano scommesso sull'innovazione dal punto di vista giuslavoristico molto prima di noi. Noi abbiamo dovuto fare quello che gli altri non avevano certo bisogno più di fare perché si erano organizzati prima. Questo tipo di riforme sono l'ABC, sono il PIN per sbloccare il telefonino, per iniziare a chiamare. Queste riforme non sono l'obiettivo, sono il punto di partenza, non sono il traguardo, sono il primo passo. E queste riforme hanno bisogno di essere implementate ancora oggi. Penso alla giustizia civile. Ah ma come ci parli di giustizia civile? C'è un collegamento non tanto con l'industria 4.0 ma con il fatto che la digitalizzazione dei processi permetterà di semplificare finalmente un sistema come quello della giustizia civile che oggi è la principale richiesta che ci viene fatta dalle grandi multinazionali. È il tema della pubblica amministrazione che piano piano sta finalmente dispiegando i propri effetti, la cui riforma sta dispiegando i propri effetti. Ancora troppo piano ma ci stiamo arrivando. Il fatto di poter permettere di avere tempi certi. Adesso se uno di voi vuole fare un investimento finalmente in azienda ha un tempo massimo che è ancora molto lungo perché sono totale di cinque mesi ma rispetto ai cinque anni che molti di voi hanno dovuto sopportare è tutta. Vedo le facce di alcuni di voi che dicono magari ci fosse stato prima. È un meccanismo molto semplice. Adesso dal giorno in cui parti al giorno in cui hai cinque mesi. Punto. Ti devono dire sì o no. Poi però se dico no si assumono la responsabilità. Troppo facile dire no e poi far finta di niente. Chi ti dice di no ti deve spiegare perché no. E ha al massimo cinque mesi di tempo. E la conferenza dei servizi smette di essere quella terapia di gruppo anch'essa dove tante persone diverse si riuniscono e ciascuno dice la sua. Il governo ci va con una sola voce. Prima parlava il ministro dello sviluppo economico, il rappresentante, che diceva A. Poi partiva il ministro dell'ambiente. E no però è B. Poi arrivava il ministro della cultura con i sovrintendenti. No è C. Poi arrivava il ministro della semplificazione magari che per semplificare ringarbugliava tutto. Il paese della zecca garbuglia ha finalmente oggi un sistema semplice dove si parla con una sola voce. Si fanno la fatica di mettersi d'accordo prima e se non sono d'accordo il consiglio dei ministri a nome di tutti decide anche a costo di scontentare qualcuno. Queste riforme che ancora si vedono in filigrana nella riorganizzazione del paese sono però l'ABC. Noi pensiamo che ci devono essere dei dragger per la crescita dei prossimi anni su determinati punti. vi risparmio tutto il ragionamento sulle riforme istituzionali perché non sono qui a fare campagna elettorale. Vi parlo delle altre scelte fondamentali che stiamo seguendo. La prima è un grande tema per me e parto di qui in presenza di un mondo industriale perché so che fa parte della vostra cultura. Non vi parlo di riforme istituzionali, non vi parlo d'Italia 4.0, vi parlo di diritti e di sociale perché conosco Verona, perché conosco gli imprenditori veronesi e perché conosco gli imprenditori veneti. L'avete nel vostro DNA il tema della responsabilità sociale. Al netto di tante ricostruzioni talvolta fallaci e assurde che vengono fatte. Io sono arrivato, ho scelto di visitare una pia opera, la pia opera Ciccarelli, avrei potuto vederne altre. Insieme al sindaco siamo andati lì perché in questi anni io penso che uno dei messaggi fondamentali che dovrà dare chi come voi può eccellere a livello mondiale è che non lasciamo indietro nessuno, è che la riforma del dopo di noi per chi ha dei figli con disabilità, perché la riforma del terzo settore, perché la riforma della legge sull'autismo, perché la riforma sullo spreco alimentare, perché la legge che abbiamo fatto e che dovrà essere applicata sul mondo dell'associazionismo e del volontariato sono il punto di partenza di questo paese. Noi siamo l'Italia e siamo diversi perché partiamo di qui. È una delle cose che sto cercando di dire a livello europeo. Noi non andremo avanti con l'Europa delle regole senza un'Europa dei valori, senza un'Europa degli ideali. Questo è il primo tema, ovviamente non ve ne parlo lo risparmio, ma è un tema sul quale stiamo investendo moltissimo in termini di tempo e di lavoro a partire dal fondo per la non autosufficienza. C'è un secondo punto, ne abbiamo parlato anche oggi. Oggi abbiamo firmato a Milano un importante documento sul futuro del Human Technopole. Che cos'è? Non è un esercizio per il mio terribile inglese. È il luogo dell'Expo che viene ripensato e immaginato per il futuro. L'Expo è stato un successo. Poteva andare meglio? Sì. Poteva andare anche molto peggio. Io sono arrivato a Palazzo Chigi nel febbraio del 2014 e sono stato circondato da un gruppo di bravissimi consiglieri che mi ha detto oh mi raccomando non mettere il naso nell'Expo, non ci mettere bocca, ci portano via tutti. Infatti di lì a una settimana è accaduto una serie di, sono vi sono stati una serie di arresti, di scandali e lì capisci che la prima reazione è quella umana, di dire mamma mia che confusione che hanno fatto, oppure dire io non c'entro niente, passavo di qui per caso. Ma chi fa politica non viene pagato per analizzare i problemi, viene pagato per risolvere i problemi. In otto giorni attraverso l'autorità nazionale anticorruzione e attraverso il lavoro straordinario di tutti, devo dire con le amministrazioni di tutti i colori, perché c'era il comune in un modo e la regione in un altro modo, quindi noi abbiamo chiamato tutti perché siamo l'Italia, ci siamo messi a lavorare, l'Expo è partita e con buona pace di tutti quelli che dicevano no all'Expo sarà un disastro, l'Expo ha portato 21 milioni di persone. Ogni riferimento a chi dice no ai prossimi otto anni alle Olimpiadi è puramente voluto. Ma, ma, ma voglio dirvi, oggi abbiamo firmato in quel di Milano, al terzo incontro, alla fine il sindaco di Milano ha detto che mi denuncerà per stalking, perché al terzo incontro nel piccolo teatro di Milano abbiamo finalmente dato via libera a una governance straordinaria internazionale di questo centro d'eccellenza, l'iScience, investimenti sulla qualità della vita, sulla neurotecnologie e sulla neuro ricerca, su tutto ciò che ha a che vedere con la qualità della vita, l'allungamento dell'età media e gli investimenti sul futuro. Sarà un centro di eccellenza internazionale che deve competere. E oggi ho detto una cosa molto semplice, siccome noi come Governo abbiamo investito su quello ricorderete che c'erano state anche alcune polemiche. E noi abbiamo detto che si fa così perché è fondamentale far così. Adesso che siamo tutti d'accordo nel far così, il Governo e la politica fanno un passo indietro e lasciano ai professori scegliere i migliori, individuare i migliori, noi mettiamo i soldi e mettiamo gli investimenti pubblici perché senza investimento pubblico non c'è ricerca, poi bisogna che i privati mettano di più, tutto vero, ma senza investimento pubblico non c'è ricerca e i soggetti che gestiranno Human Technopole dovranno fare competizione a livello internazionale. Non ci deve essere più nessuno del mondo della politica che metta al naso sui criteri o sulle modalità. Scelgono loro. Ma anche questo è un settore sul quale continuare a investire. Scienza della vita, investimenti sul futuro. E potrei continuare a lungo sulle infrastrutture. Abbiamo detto e lo confermiamo che tutti i denari per le scuole saranno fuori dal patto di stabilità. Perché noi non possiamo continuare ad avere un sistema in cui, in nome di assurde e vetuste regole, che pure rispettiamo, perché noi anche le regole più assurde e più vetuste le rispettiamo, però abbiamo un sistema nel quale i nostri figli vanno a scuola in strutture non rimesse a posto. Io sono per tutti i patti di stabilità di questo mondo, visto che quelli prima di me li hanno firmati, ma c'è una stabilità che mi sta più a cuore delle regole tecnocratiche. È la stabilità dei miei figli e delle scuole nelle quali loro passano il tempo. Tutto ciò che serve per l'edilizia scolastica è fuori dal patto. Adeguamento e manutenzione antisismica, efficientamento energetico. E accanto a questo però le infrastrutture quotidiane. Le infrastrutture che portano ad avere la banda larga, condizione necessaria e non sufficiente per il piano Industria 4.0. Gli investimenti legati alle grandi opere di comunicazione, qui ne avete una testimonianza, il collegamento che comunque deve portare il nord-est ad essere sempre più competitivo a livello internazionale e europeo, e contemporaneamente i grandi assi di collegamento che da Milano devono portare fino a Palermo, da Milano devono portare fino a Lecce e avere un paese in cui le grandi opere si sbloccano. Io ho avuto un momento di difficoltà quando nel mese di febbraio ho detto di fronte ai giornalisti della stampa estera, perché poi un po' anch'io me le vado a cercare, diciamo la verità, che noi avremmo inaugurato la Salerno-Reggio Calabria entro Natale, risata complessiva generale. Qualcuno ha detto di quale anno? No, però non ride anche lei, perché dobbiamo smettere di ridere dei nostri ritardi. Certo, bisogna smettere di fare ritardi, non di ridere. E allora da questo punto di vista ci siamo messi a lavorare, le aziende hanno dato una risposta e noi quest'estate abbiamo fatto fare la Salerno-Reggio Calabria tutta a quattro corsie, ma ancora non è finita perché c'è un 200 metri di galleria che vanno sistemati. E il 22 dicembre, costi quel che costi, si prende la macchina, l'ho già detto a Del Rio, lo carico in macchina, guido io, e si fa la Salerno-Reggio Calabria, da Salerno a Reggio Calabria tutta intera, totalmente rimessa a posto come era nostro dovere. Come abbiamo fatto la variante di Valico, come abbiamo fatto il quadrilatero tra Umbria e Marche, come dobbiamo fare alcune infrastrutture in Veneto che ancora sono rimaste un pochino indietro, un pochino è un eufemismo. Tutta sta parte qui è una parte di sistema del Paese ed è una parte che non ha colore politico, che è una parte che serve all'Italia. È inutile che noi continuiamo a guardare a questo nostro grande Paese soltanto come al Paese dei Ricordi. Questo Paese ha tutto per potersela giocare, ma le cose le deve fare. È finita l'ora delle chiacchiere. Poi ti metti a discutere, vai in campagna elettorale e votate chi vi pare. Ma quando c'è da governare? Si governa. E si governa particolarmente, poi arrivo al punto finale di Carlo e di Industria 4.0, quando accade qualcosa come quello che è accaduto ad Amatrice, ad Accumoli, ad Arquata qualche settimana fa. perché quando accade un terremoto, il terzo in sette anni, l'Italia piange le vittime come naturale. L'Italia è brava nell'emergenza. 238 vite umane salvate dal cane Leo della Polizia di Stato fino ai vigili del fuoco straordinari, fino alle donne e gli uomini delle forze dell'ordine, delle forze armate, dei volontari. Le colonne venete sono partite due ore dopo, straordinarie, come pure anche di altri paesi. Fiuli Venezia Giulia che ha, ahimè, una certa espertise su questo. Però io non mi accontento di essere quello che sta in un paese in cui l'emergenza viene gestita bene. Dobbiamo gestire bene la prevenzione di lì. Casa Italia è il grande progetto di prevenzione, affidato non agli amici degli amici, ma alle linee guida di Renzo Piano, ma alla project management del capo del Politecnico di Milano, professor Azzone. Almeno su questo possiamo mettere da parte le divisioni e metterci a lavorare? Io credo di sì. E su questi progetti, e chiudo, si inserisce perfettamente Industria 4.0. Noi potremmo dire che abbiamo deciso di aspettare a farlo, di fare tutte le riforme di cui vi ho parlato fino ad oggi, senza riforma costituzionale, istituzionale della giustizia sarebbe stato poco credibile. In realtà è che, diciamo la verità, anche noi siamo arrivati un po' in ritardo sul piano Industria 4.0. Come al solito, cerchiamo di cogliere l'aspetto positivo di questo ritardo. E cioè, come vi ha spiegato dettagliatamente Calenda, di fare il benchmark delle altre esperienze, di cogliere il positivo di ciò che ha funzionato e anche di evitare alcuni errori che sono evidenti e insiti in un rischio di questo genere. Io trovo un punto fondamentale, perché Carlo ha già spiegato tutto e Giulio, che peraltro nella sua formazione di ingegnere credo sia particolarmente sensibile a questi temi, il punto è quello della responsabilità. Noi governo, noi politici, mettiamo in campo delle regole, poche possibilmente e chiare, e poi lasciamo alle imprese il compito di giocarsela. Ci sarà qualcosa che non funziona? Ci sarà qualche fallimento? Sì, sì. Questa logica che la cultura del fallimento è vista come un peccato, anziché come un tentativo mal riuscito, è uno dei più grandi problemi dell'Italia. Noi abbiamo avuto fino a qualche anno fa chi falliva che non poteva neanche votare, mentre nella Silicon Valley un ragazzo che falliva era considerato dai soggetti del venture capital come uno interessante, perché probabilmente dal fallimento poteva aver tratto qualche insegnamento. Noi dobbiamo anche pensare che sì, si possono commettere degli errori, ma è meglio rischiare e fare che non star fermi alla finestra a giudicare il Paese secondo gli stereotipi degli ultimi vent'anni. È su questo, cari amici di Verona, che vi sfidiamo, perché non siamo qui per gli zuccherini, non siamo qui per dire quanto siete bravi, lo sapete da soli quanto siete bravi. Che bisogno abbiamo di raccontarvi questo? Possiamo dire grazie alle università che hanno colto la sfida, più è meglio di altre, ed è un fatto positivo, è un fatto straordinario, è un fatto di cui anch'io voglio rendervi merito. Ma poi non siamo qui per dirvi bravi, siamo qui per dirvi che questo Paese è di tutti. O lo rimettiamo in campo come io sono convinto si possa fare, grazie al vostro contributo e grazie al vostro impegno, oppure perderemo delle opportunità per i nostri figli e per i nostri nipoti. Noi dobbiamo darvi un quadro di regole più semplici possibili, con meno burocrazia possibile e con tempi certi. Il resto ve la giocate voi, semplicemente perché a fare queste cose siete molto più bravi di qualsiasi dirigente ministeriale o di qualsiasi Presidente del Consiglio. Perché è il vostro lavoro, lo avete sempre fatto. E allora, quello che manca è un atteggiamento culturale, non da voi, perché voi siete disponibili a tirarvi sulle maniche a casa vostra, ma un atteggiamento culturale sul futuro dell'Italia. Non ne posso più di quelli che continuano a dire che il tempo migliore dell'Italia è il passato. Non è vero, è una balla. Non è vero, oggettivamente. Se l'Italia fa la sua parte, l'Italia è in grado di essere competitiva nel mondo. Certo bisogna far fatica, certo bisogna prendersi qualche rischio, certo si può commettere qualche errore. Ma chi di voi avrebbe fatto quello che ha fatto se non avesse avuto il coraggio di prendersi qualche rischio, di fare qualche errore e di investire sul futuro quando sembrava impossibile farlo? La mia, allora, non è una richiesta di ingratitudine, è una provocazione. Abbiamo fatto finalmente qualcosa che ha smosso il Paese, però ancora non basta. E mentre vi diciamo che dobbiamo tenerci caro, a cuore, quelli che non ce la fanno, dobbiamo anche dire a voi, imprese dell'eccellenza, mettetevi in gioco, rischiate. Industria 4.0 può essere uno straordinario successo, insieme alle altre riforme, se posizionerà, come il ministro Calen della cabina di regia ha fatto, la responsabilità, soprattutto sul vostro coraggio e sul vostro entusiasmo. Noi, da parte nostra, faremo tutto il possibile per dimostrare che ciò che serve all'Italia è una grande ventata di futuro. Voi però dimostrateci quello che avete sempre fatto, che quando c'è da competere nel mondo, poche realtà sono in grado di giocarsela con gli italiani. E puntiamo sempre al primo posto, perché accontentarsi di arrivare in classifica messi bene non basta più a nessuno. Allora, Industria 4.0, i soldi e le risorse noi le mettiamo. A voi il compito di dimostrare alle italiane e agli italiani che se ce la mettiamo tutta non ce n'è per nessuno. Viva Verona, viva l'Italia. Grazie. Applausi. 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 Applausi.